...contro la vincente di Milan Lazio in semifinale, palla nell'area di rigore, arriva Simplisio che riesce a toccare per la mela. Allora Pagno Conte ha chiesto un fallo di mano, andiamo a rivedere, eccolo l'intervento. Si è proprio immerso nella filosofia e nella mentalità juventina. Intanto l'attacco con Giaccherini, a tu per tu con il quartiere avversario e passa la Juventus in vantaggio. 5 minuti e 40 secondi, bucata la difesa. Intanto il cartellino giallo per Stigarritia che ha proseguito l'azione. Intesa tra i due e poi lancio per Pjanic. Ed esce bene Storari. Del Piero, Del Piero a sinistra Stigarritia, Del Piero ha cercato Borriello, va Del Piero al tiro! Ed è un gol capolavoro! Un gol di Del Piero, uno dei suoi, destro a giro. È il primo gol in questa stagione di Alex Del Piero. Del Piero che può solo guardare Stechelenburg. Ha piazzata praticamente sul pallone, un tiro alla Del Piero. Ha trovato un grande corridoio con l'esterno del destro per Marrone. Da questi ad Stigarritia scoperta la difesa della Roma. E Stigarritia sbaglia tutto, ignorando sia Borriello che più indietro Giaccherini. Pjanic. Che prova il tiro! Non male la conclusione di Pjanic, è tesa. Si ferma allora Bojan, è partito il cross di Taddei. Ha svirgolato malamente Bonucci rischiando un clamoroso autogol. Taddei, Taddei, va alla conclusione Taddei, Storari. Conte si complimenta con Borriello. Cerca ancora di saltare Taddei. Estigarritia scatenato, arriva Simplicio. E c'è il cartellino giallo per Simplicio. E c'è cartellino rosso per Lamella. Lamella, espulso al ventitresimo della ripresa. La Roma rimane in dieci. Borini per Totti. Totti ancora per Borini, la grande chance. E palla fuori. Rischiatissimo dai tifosi della Juventus. Lascia il campo e deve cedere anche la fascia da capitano. Sta entrando al suo posto per rotta. Tutti in piedi i tifosi della Juventus nel saluto al capitano. Che ha firmato il 2-0. Il chirurgico allo Zigamur. Zigamur, recupero importante per la Juventus. Ora Stechelenburg di piede verso Taddei. Taddei perde palla. Matri, un'opportunità. Il traversone, Quagliarella, traversa. Quagliarella, c'è Estigarritia. Lo lancia Quagliarella. Estigarritia al tiro. Ha cercato l'angolino basso più lontano. Estigarritia, seconda grande chance per lui. Attacca ancora la Juventus. Quagliarella si volta per vedere dove è l'Ikstaini. È partito il traversone basso. Matri e Kear che salva. Non è riuscito a far su la palla Stechelenburg. Scatto da parte di Quagliarella. Valutato in posizione regolare. Quagliarella in area. Sta arrivando Matri. Il passaggio di Quagliarella. E c'è l'autorete sull'intervento di Kear. Per la Juventus è il terzo gol. E arriva al novantesimo.